Martedì 22 dicembre, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa del mattino, sono le 7, siamo in diretta come sempre e a voi tutti giunga da parte della redazione l'augurio di un buon risveglio, di un buon giorno, allora partiamo come sempre dal santo, vediamo la santa oggi, Santa Francesca Saverio Cabrini, siamo negli Stati Uniti, il sole sorgerà alle 7.43 e tramonterà alle 16.36, adesso il tempo. Allora io andrei a vedere prima, ecco questa pagina qua, feste di Natale, prima irruzione fredda, piogge e neve attraversano la penisola, dopo Natale seconda fase di maltempo invernale, con freddo piogge e forti venti e neve anche in pianura, queste tre bimeteo, allora andiamo a sbirciare un attimo sul portale e andiamo a vedere che tempo farà nella nostra regione, vediamo se riusciamo a farlo senza dover accettare troppi cookies, allora vediamo un po', siamo qua, proviamo a fare così, volevo farvi vedere nel dettaglio la nostra regione, eccola qua, ce l'abbiamo fatta, questo è il giorno di Natale, la notte, la mattina, avremo nella provincia di Pesaro e Urbino, vedete, sole, ma poi peggiora subito nel pomeriggio di Natale con temporali, soprattutto, vedete, concentrati sulla provincia di Pesaro e Urbino, in particolare la costa, Fanese e Pesarese, poi nella serata ancora ulteriore peggioramento, la notte di Natale, che non è la vigilia, ma la sera, insomma, avremo tra il 25 e il 26, avremo temporali anche forti e già il primo fiocco di neve intorno ai 450 metri, ma è il giorno di Santo Stefano, che ci interessa particolarmente, questa è la notte, vedete, continua a piovere su tutta la regione, poi le temperature via via andranno a scendere e arriveranno le nevicate anche intorno ai 500 metri sulla collina, questa è la situazione tra il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, ma velocemente andiamo a vedere il tempo per oggi, allora martedì 22 dalla protezione civile delle Marche, vedete, ci sono soltanto possibili foschie, nebbie nei fondovalle, per il resto cielo sereno, poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso anche mercoledì, la vigilia di Natale ancora nuvoloso con piogge, vedete il peggioramento nelle zone interne, piogge sparse in montagna, occasionali altrove e poi instabile, come abbiamo visto nel giorno di Natale e Santo Stefano, andiamo subito sui giornali, allora Carlino di Pesaro, fotonotizia, riportiamoli tutti a scuola, la lettera manifesto di 166 prof della provincia, titolo, restrizioni beffa, più contagio e morti, provincia in controtendenza nei giorni della zona arancione, qui c'è stata la recrudescenza del virus e questo è purtroppo vero, Montecchio al bar Parioli, un anziano fa il colpo, gioca 4 euro, ne vince 100 mila, poi aumento della Tari, presidio dei sindacati, la protesta per l'aumento della tassa sui rifiuti, bussa la Regione, rimborsa gli abbonamenti agli alunni, la Regione rimborserà gli abbonamenti scolastici non utilizzati dagli studenti delle scuole superiori in didattica a distanza, verrà rilasciato un buono, mobilità studenti, così si chiama, valido sulle tratte regionali ferroviarie su gomma e su gomma, non nominativo, per cui questo bonus potrà essere cedibile anche ad un'altra persona. L'intervento consiste nel rilascio di un voucher utilizzabile entro un anno dall'emissione e valido per acquistare titoli di viaggio dalle aziende erogatrici, dei servizi di trasporto pubblico, locale, automobilistico e ferroviario di competenza della Regione. Il buono, attenzione, può essere rilasciato in relazione agli abbonamenti riferiti all'anno scolastico 2020-2021 e acquistati prima del 3 novembre 2020, poi varranno, insomma, bisognerà utilizzarli entro la fine del prossimo dicembre 2021. Poi sempre dalla prima pagina del Carlino, ecco 3.000 euro per chi soffre il regalo dell'uomo senza nome, storie di solidarietà, siamo sotto Natale, ci sta, e poi 100 pranzi in dono a famiglie bisognose, siamo sulla pagina di Fano e lo screening con i tamponi di massa aumentano i test e ieri quasi 3.000. Poi sotto l'hotel Cruiser a Pesaro, asta deserta, se ne riparla a marzo, basket, massenat fuori 3 mesi, WL, ecco la strategia. Il Corriere Adriatico, il campus musicale vale 10 milioni, questo è il titolo d'apertura, i 6 milioni annunciati per il Conservatorio Rossini si affiancano agli oltre 3 milioni e mezzo destinati a Palazzo Ricci. Sul piatto progetti di riqualificazione di valenza culturale e turistica, anche 100.000 euro per le residenze artistiche. A centro pagina invece domani è il D-Day dei ristoranti, prima del lockdown, domani è l'ultimo giorno in cui si potrà andare a pranzo al ristorante, poi dopo si chiuderà, si chiuderà tutto, l'ultimo pranzo sarà una festa, dicono. Sotto scuola 150 prof firmano l'appello su come riaprire, ma vedremo, ci sono dei dubbi anche per la variante inglese del virus, di conseguenza probabilmente sarà difficile che si tornerà il 7 gennaio a scuola, ma bisognerà vedere nei prossimi giorni, insomma, come andrà a finire. Poi non dimentichiamoci che ci sarà tutta la vaccinazione anche in Italia, speriamo che cominciano, gli inglesi hanno già vaccinato 250.000 persone e devo dire che stanno rispondendo bene al Covid, anche alla variante del Covid. In Inghilterra circola molto questa variante nuova e il dubbio era se il vaccino fosse efficace oppure me, oppure no. La notizia buona è che questi 250.000 inglesi che sono stati già vaccinati non hanno preso, non hanno ripreso, non hanno comunque preso, non sono stati infettati, quindi questo è importante. Allora andiamo avanti, poi quel confine invisibile, questione di centimetri, ma la Romagna è out, siamo sempre sulla prima gabice, ma l'appello, su questo poi entreremo un po' nel dettaglio, commenteremo, vedremo un po'. Salta Martini ai giovani, l'assessore regionale della sanità delle Marche, dice venite a fare il tampone e di questo, come dicevo appunto, ne parleremo tra un istante. Domani riapre invece la RSA, la casa di riposo di Monbaroccio, gli ospiti prima di rientrare nella struttura saranno sottoposti al tampone moleconare, si ricomincia da 14 posti e poi da Fano albergatore in ginocchio per il settore nessun ristoro. Ad Ancona invece il Carlino, questa è la fotonotizia, cadavere tra gli scogli, il corpo di una donna ritrovata ieri al passetto, pare che sia una donna di sui 50 anni, mentre travolto e ucciso dall'ambulanza a Iesi, il mezzo di soccorso era a sirene spiegate quando si è trovato davanti l'82enne sulle strisce pedonali. Allora il virus cambia, dicevamo, dubbi sul ritorno a scuola, questo è il titolo del resto del Carlino a pagina nazionale, gli esperti dicono tornare in classe dopo l'epifania per ora è impossibile fare previsioni, i vaccini già approvati funzioneranno anche contro questo nuovo nemico, certo che parlare di nuovo nemico in una situazione già complessa, rende l'umore ancora più grigio, diciamo che sì, nuovo nemico, ma fino a un certo punto non esageriamo, nel senso che è un virus al momento che si diffonde molto rapidamente, abbiamo visto ieri le percentuali, 70% in più di quello che conoscevamo, con questa variante si diffonde il 70% di volte in più, però la buona notizia, nella cattiva, è che non peggiora le condizioni della persona che viene contagiato, quindi non è che produce, che uccide più di quell'altro o comunque che fa male più di quell'altro, ecco, tanto per essere chiare. Andiamo sull'altra pagina del resto del Carlino, questo riguarda invece gli spostamenti, riguarda i divieti, quelli a cui saremo sottoposti tutti a partire dal 24, quando l'Italia sarà in zona rossa, piccoli comuni, ok ai viaggi fuori regione, genitori separati possono raggiungere i figli, il governo fa chiarezza dunque sul decreto di Natale, ai partner è permesso riunirsi, chi viola le regole rischia però una multa tra i 400 e i 1000 euro, questa è la cosa secondo me anche da tenere a mente, 400 euro da 400 a 1000 euro, mentre c'è un'ordinanza che riguarda l'Alto Adige che un pochettino si smarca dall'Italia e dice sì alle feste in famiglia, chiaramente bar, ristoranti e negozi saranno chiusi anche in Alto Adige ma gli alberghi invece resteranno aperti, ma siccome poi in Alto Adige di bar ce ne sono uno ogni, cioè praticamente non esistono bar se non alberghi dentro gli alberghi per cui possiamo dire che di fatto in Alto Adige sarà tutto aperto perché bar, ristoranti di fatto sono sempre solo dentro gli alberghi, si potrà festeggiare con nonni, genitori, figli e partner ma con una forte raccomandazione a mantenere basso il numero delle persone. Sempre sul Carlino, sempre dal Carlino nazionale, il morbo non molla, sale ancora l'indice RT, questa è la parte invece che però ha un senso voglio dire, non è che l'indice RT sale o scende a seconda del vento, sale o scende a seconda invece dei nostri comportamenti l'aumento coincide infatti, questo ultimo aumento, con l'inizio del weekend di shopping quindi c'è tantissima gente, lo abbiamo visto, basta andare in città per vedere come anche nell'ultimo fine settimana, tanto per fare un esempio, Ancona, Pesaro, Fano, città prese d'assalto e ovviamente più aggregazioni, più assembramenti e più il virus circola e si porta a casa. Tutto questo è inutile dirlo, il morbo, lo ripetiamo sempre, fa semplicemente il suo mestiere, salta e si riproduce, cerca di sopravvivere passando da un corpo all'altro, siamo noi che gli diamo la possibilità di vivere e quindi la colpa è soltanto la nostra, c'è poco da girarci intorno, è inutile che stiamo qua a impazzire con vaccini eccetera che vanno bene, tutto quanto, però se usassimo un pochettino un po' più di accortezza e un pochettino di senso di responsabilità probabilmente non ci ritroveremmo a fare i conti. Io vi ho risparmiato questa mattina le pagine ma se comprate i giornali e andate a comprare i giornali vedrete pagine allucinanti di regole, decalloghi su cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, con chi dobbiamo stare di fianco, a tavola, chi addirittura arrivano a dire i nonni stanno nel tavolo del soggiorno e i nipoti stanno nel tavolo della cucina, cioè le cose che a leggerle fra dieci anni non so se rideremo o piangeremo ma comunque detto questo adesso si fa anche un po' per commentare, un po' per sdrammatizzare ma certamente la responsabilità è nostra, il virus ripeto c'è e fa il suo mestiere. Screening di massa, ecco a proposito di ognuno debba faccia il suo mestiere, i giovani, questi benedetti giovani, cari genitori, io credo che sia il caso di invitare i figli, i giovani ad andare ancora oggi o fino a domani, parliamo delle marche a questo punto, ad andare a fare il test e adesso prendiamo le parole dell'assessore Saltamartini, dunque intanto partiamo dal dire che questo è un progetto sanitario, quello dello screening di massa, questi test rapidi, molto importante che ha toccato in questa prima fase le principali città e che poi si concluderà domani, tranne a Dancona invece dove proseguirà anche dal 27 al 30, quindi Pesero, Pesero, Urbino, ancora c'è tempo oggi e domani. Però dice, dice Saltamartini, ho notato che stanno rispondendo soprattutto adulti ed anziani, invece noi vorremmo, dice Saltamartini, scovare, cercare anche i casi asintomatici, quelli cioè che altrimenti resterebbero nell'ombra, continuando ad essere fonte di contagio. E gli asintomatici sono innanzitutto i giovani, ecco perché, ecco per questo mi appello, dice Saltamartini, ai ragazzi affinché prendano parte a questo screening, grazie alla loro partecipazione potremmo far affiorare il virus dove altrimenti non riusciremmo a trovarlo. Lo screening prosegue con un'ottima organizzazione nelle città di Ancona, Ascoli, Fermo, Macerata, Pesero, Urbino e sottolinea l'assessore regionale, ci sono ancora due giorni prima di Natale per potersi sottoporre al tampone, invitiamo quindi la popolazione a prendere parte a questa importante iniziativa regionale, eccetera, eccetera. Ora immaginiamo i giovani che dicono, come un po' fanno i più grandi, dicono, beh però se poi mi trovano positivo, io sono giovane, sto bene, ma sono costretto a stare in quarantena. Ora figlio caro, in quarantena ci sta lo stesso perché comunque fino al 6 di gennaio più o meno sei costretto a stare a casa per decreto, quindi fai un gesto di buona volontà, un atto di coraggio e visto che sei giovane, baldanzoso, insomma vai e fai questo tampone perché è importante, i giovani sono quelli che regiscono bene, abbiamo visto, però spesso sono veicoli importanti di contagio, quindi ecco, fatelo così è importante per tutto. Vabbè, andiamo avanti, i dati li troverete sul giornale di oggi. L'altra pagina che ho selezionato invece questa mattina dal Corriere Adriatico, per la rassegna di oggi, è questa, è sempre dal Corriere appunto, ed è un'intervista al dottor Massimo Clementi, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano, il quale dice, vaccino e anticorpi monoclonali sono le due strade per combattere anche la variante inglese del Covid. In Gran Bretagna, vedete quello che dicevo prima, in Gran Bretagna profilassi per 250 mila e nessuno si è infettato. Dunque, l'intervista di Martina Marinangeli, allora dice, la domanda è, il fatto che la mutazione riguardi proprio quella proteina su cui agiscono i vaccini, può renderli inefficaci? La risposta di Clementi è, l'Inghilterra ha già vaccinato 250 mila persone, nessuna delle quali si è infettato e la variante sta circolando molto in Inghilterra. Questo ci dice dunque che il vaccino dovrebbe proteggere e non è giustificato, attenzione, non è giustificato nessun allarmismo. Ora, se è nata a settembre questa variante, perché la scopriamo soltanto ora? La risposta solo ora è diventata prevalente. Di varianti ce ne sono tante, molte durano un giorno, altre durano di più, ma localmente. Altre ancora, come in questo caso, si fissano nella popolazione perché hanno un vantaggio. Il vantaggio di questa variante è che si trasmette, come abbiamo visto, più velocemente. Ora, le varianti, ancora, le varianti potrebbero implicare la necessità di vaccinarsi ogni anno, come avviene per esempio con l'influenza? Questa è intelligente come domanda. Nella migliore delle ipotesi, risponde Clementi, vacciniamo il 90% della popolazione e il virus non circola più e finisce tutto. Chiaramente parliamo del 90% della popolazione mondiale, quindi capite che insomma è un'operazione gigantesca. gigantesca, ma comunque, nella migliore delle ipotesi, il 90%. Se invece il virus dovesse mutare, o peggio ancora, il prossimo anno arrivasse un nuovo tipo di coronavirus, abbiamo tuttavia una tecnologia che prima non avevamo. L'RNA messaggero, di cui sono costituiti i vaccini Pfizer e Moderna, che sono rapidamente modificabili. Quindi non partiamo praticamente, in sostanza, da zero, anche se dovesse mutare questo virus, dovessimo avere addirittura un nuovo coronavirus il prossimo anno, in realtà non partendo proprio da zero, siamo comunque in vantaggio e quindi i tempi sarebbero sicuramente molto più brevi. Dunque, anche nell'ipotesi peggiore, conclude Clementi, quindi che occorra modificare il vaccino, farne addirittura uno completamente nuovo, saremmo avvantaggiati ed avremo una tecnologia che ci consentirà di farlo molto, molto velocemente. Ancora dalle marche, adesso stringiamo il cerchio e andiamo a San Costanzo, San Costanzo nel Pesarese. Ora i test rapidi si fanno anche lì, attivato un ambulatorio in viale della libertà per i medici di famiglia, saranno loro a selezionare i mutuati, già accolti i primi venti, se si è negativi, chiaramente questo ormai lo sapete, l'iter è questo, se si è negativi si va a casa, altrimenti l'Asur procede con il tampone molecolare. Da San Costanzo, scendendo giù Marotta, arriva il mercato ed io non esco più, è la protesta di un residente, Enrico Bassotti, che abita in prossimità di un incrocio tra il Viale e via Sardegna, dove il fenomeno delle auto lasciate fuori dalle aree consentite, persino sulla linea dello stop, si ripete ogni settimana creando qualche disagio e rendendo un po' la vita impossibile a questo residente. Ora andiamo invece a Pesaro per parlare di alcuni frati, alcuni frati che sono risultati positivi, hanno dovuto chiudere la chiesa, sono i frati di San Giovanni che sta in via Passeri, di San Giovanni Battista, che si trova in via Passeri, e che sono ancora un po' in affanno dopo l'emergenza coronavirus, che li ha costretti a chiudere anche le varie funzioni della chiesa monumentale. Ora c'è una signora, Maria Giovanna Giordano, presidente dell'Associazione Culturale Ars Musica, che si sta mobilitando, che si è mobilitata per aiutare questi frati, loro tra l'altro, sapete, i frati hanno fatto anche voto di castità, povertà, possono solo, adesso parte la castità che qui c'entra poco, ma comunque la povertà è quella che conta in questo momento, quindi possono solo contare nelle offerte dei benefattori e nella sensibilità dei fedeli. Quindi questa signora cosa fa attraverso il giornale? Dice se è possibile aiutarli in qualche modo, perché tre frati, per fortuna, sono rimasti negativi dopo il primo tampone, due giorni fa, mentre gli altri due frati sono ancora ricoverati. Uno sta seguendo un periodo di riabilitazione, però l'altro purtroppo è in condizioni più critiche. Hanno riaperto la chiesa ai fedeli, hanno sanificato tutto, detto la messa, ma hanno bisogno di aiuto e non possiamo abbandonarli. Quindi se comprerete il giornale, appunto, troverete anche, c'è un IBAN, insomma, ci sono le varie possibilità per aiutarli, ma si può anche portare qualche cosa da mangiare, pasta, scatolame, insomma, tutto quello che si fa di solito e via. Insomma, poi, vabbè, c'è anche una diocesi in questo caso che non può far finta di niente, ma sicuramente saranno aiutati anche dall'Arcidiocesi di Pesaro. Ora, andiamo invece alla pagina di Fano, perché il Correo Adriatico questa mattina pubblica la notizia della rabbia degli albergatori. Qui vedete il presidente Luciano Cecchini, dice, quei pochi alberghi che a tutt'oggi sono aperti nella città di Fano, lo sono per mantenere fede ad una serietà di lavoro, altrimenti avrebbero chiuso praticamente tutti quanti. E, in sostanza, Luciano Cecchini lamenta il fatto che non ci sono ristori, fondi per questi albergatori. Ci sono strutture che hanno perso il 90% dei ricavi. Chiaramente, poi, non potendosi spostare da una regione, non potendoci, ci mettiamo tutti quanti dentro, spostare da una regione all'altra, anche se uno volesse fare una piccola vacanza spostandosi, eccetera, non lo può fare perché deve stare nella propria regione. È chiaro, uno che sta nelle Marche non va a fare le vacanze nella sua città, insomma. Quindi, di fatto, non hanno lavoro. Poi, sotto, qui, sempre sulla pagina di Fano, del Corriere Adriatico, gli auguri di serie al ricercatore in Antartide. Parliamo di Rodolfo Canestrari, station leader di una missione scientifica che racconta la sua esperienza. È a 15.000 km di distanza da Fano, si trova nell'Antartide, dove sta per iniziare l'estate dell'emisfero sud. Però l'estate non ce l'immaginiamo, chiaramente, con il costume da bagno e ogni tanto si va a fare un tuffo in acqua, perché la temperatura è più o meno intorno ai 35 gradi sotto zero e quindi, insomma, fa un po' freddino. Però c'è questa bella esperienza di questo fanese Rodolfo Canestrari che ieri era in chat con il sindaco, che salutiamo nel caso dovesse guardarci e seguirci attraverso internet, visto che con internet si arriva dappertutto, e magari lo invitiamo a mandarci ogni tanto qualche video e noi lo faremo vedere ai nostri telespettatori e magari aggiorneremo sul suo lavoro in questa terra così affascinante, per quanto incredibile che è l'Antartide. Allora, andiamo sull'altra pagina, il Carlino di Fano, pagina 17. Anche qui l'ira degli albergatori, la rabbia degli albergatori, per noi nessun ristoro, nel decreto adottato dal governo non sono previsti, indennizzi, i cecchini, dice, gli hotel non erano chiusi, ma come potevamo lavorare? Si è guadagnato solo a luglio e ad agosto, due mesi però non ripagano certamente i costi di un anno. Poi con 12 concerti e 26 musicisti, le serenate dai balconi conquistano il centro storico di Fano, successo per l'iniziativa di Fano Jazz Network, bel sottofondo allo shopping. E poi l'aumento dell'Atari, ancora polemica, la protesta dei sindacati si fa strada domani alle 9, presidio davanti al Patti's Bar in centro, chiediamo ai sindaci di impegnarsi per un nuovo piano dei rifiuti. Spunta un nuovo supermarket a Fano, sulle ceneri della Polo Holding, terreno acquistato all'asta dal gruppo Conad, primi contatti con il comune per realizzare una struttura di vendita per il quartiere, prevista anche una variante. Dopo l'acquisizione dell'Ocean, il gruppo è in espansione, l'amministrazione aspetta però di vedere il progetto. Intanto è in arrivo un'altra COP, mentre all'ingresso Sud ha aperto l'Eurospin. Poli per la vendita di prodotti alimentari si moltiplicano a due passi dal centro, ma data la tipologia di articoli non creano squilibri al commercio del centro storico. Sempre da Fano, ancora dal Corriere, Alma Juventus e Virtus Vole, quindi parliamo di squadre di calcio e pallavolo. Il comune si conferma sponsor, vedete, in questo caso lo ha fatto con il carnevale di Fano, in tutte le maglie dei giocatori della scuola di calcio, ma le cifre sono decurtate. Stessa somma per calcio e pallavolo che incassano dunque 10.000 euro. E poi ancora segnaletica da ammodernare nel segno della città turistica. Si parla in questo articolo della segnaletica che serve magari chi abita nella città. La segnaletica ormai fa parte del contesto, quindi non ci si fa nemmeno più caso alla segnaletica. Però per chi viene da fuori, chiaramente la segnaletica in una città è sempre molto importante. Ed è giusto che sia anche precisa, non solo nel dare le giuste indicazioni, ma anche esteticamente, che i cartelli siano a posto e non rotti, piegati, arrugginiti e quant'altro. Andiamo sulla pagina della Val Metauro. Bonci sugli ambulatori ospedalieri. La minoranza scopre l'acqua calda, il sindaco ammette le difficoltà e spiega il perché dei sopralluoghi di Rossi e Ruggeri. Raffiche di multe, ancora Fano alle auto nel parcheggio dello Sferisterio. E' l'unico spazio sosta con disco orario. Gli altri stalli, lo ricordiamo a Fano, sono tutti gratuiti. Non so, su questa cosa del tutto gratuito ho i miei dubbi se è una cosa fatta bene o fatta male. Forse era meglio lasciarli a pagamento, così ruotavano e c'era spazio per tutti. E magari qualche soldino in più il Comune lo incassava. Dai letti tessili alle mascherine. Se l'ingegno vince la pandemia, il lockdown, l'azienda si convertì. Siamo a Pergola, producendo dispositivi anti-Covid. Oggi è tornata alla normalità. Parliamo della Noctis, realtà italiana leader nella produzione di letti. Poi Fano e Gandia, la genesi di un gemellaggio. Nel libro di Mauro Tallevi, aneddoti e storia dell'amicizia ufficialmente suggellata. Gandia è una città spagnola. Vallefoglia, domani riapre la RSA Bricciotti. Si riparte dai primi 14 posti letto. Gli ospiti, prima di rientrare, abbiamo visto, dovranno essere sottoposti a tampone per mantenerla ovviamente covid free. Poi gioca 3 euro, fortunato ne vince 48 mila. Sant'Angelo in Vado. E da Urbino, Urbino che accende in canto e meraviglia, luci e arte per il Natale in lockdown. Tanta gente con mascherine in piazza ad applaudire lo spettacolo delle stelle di Rusciadelli. E poi sotto lotterie in streaming, un successo inatteso. Raccolgo i rifiuti invece a Piobbico in montagna. Questo signore che si chiama Massimiliano Martinelli ha trascorso il giorno del suo compleanno a rimediare ai danni dei turisti della domenica. Non a caso si chiamano turisti della domenica. Violano il coprifuoco, multati in tre, scoperti dai carabinieri di Senigallia dopo le 10 di sera. Uno dei sanzionati era in giro con il cane alle 2 di notte. Cosa vuoi dire quando il cane scappa la pipì? Un esame importante invece per il futuro della Vis. Siamo sulle pagine sportive. Dopo la bella vittoria con l'Arezzo, domani l'insidiosa trasferta di Fermo. Fanno altro esame tosto dopo il K.O. di Modena. Domani al Mancini e Celmatelica, una delle squadre rivelazione del campionato. Infine, mai così tanto delfino, questo è il basket, conta solo la VL. L'argentino al top a Brindisi, vittoria voluta e partita preparata. Benissimo. Allora, noi ci fermiamo qui. L'informazione, la rassegna termina con la pagina sportiva. Noi ci rivedremo però alle 20.30 con il telegiornale. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti.